costruire la propria identità sulla base del proprio futuro avete capito bene sulla base del proprio futuro e non del proprio passato noi siamo stati sempre immersi nel meccanismo del principio causa effetto da quelle che sono tutte quelle che riguardano le lezioni di storia ad esempio che ci hanno insegnato sempre a scuola ma anche nella vita una persona sta male perché si è preso un colpo d'aria principio di causa effetto relativo al passato allo stesso modo nella storia un determinato evento una serie di eventi determinano l'identità di un popolo determinano anche quello che un popolo uno stato una nazione diventerà per il proprio futuro ma se rovesciassimo questo stereotipo cioè se l'identità fosse invece in mano al futuro e non al passato cosa ne pensate cioè al posto di considerare il principio causa effetto noi consideriamo il principio dello scopo quindi mi sono preso un raffreddore perché domani non voglio fare una cosa ho preso la febbre perché domani ho un importante esame e penso di non esserne all'altezza allo stesso modo anche la storia come un cubo di rubri che può essere rovesciata cioè l'identità di un popolo l'identità di una nazione può essere determinata al contrario da quello che la nazione il popolo pretende di volere essere e allo stesso modo anche a livello personale possiamo rovesciare questa equazione cercando di capire che cosa vogliamo noi per il nostro futuro cosa vogliamo noi per noi stessi e sulla base di quello vivere il presente michelangelo nel quindicesimo secolo quando creò la pietà non partì dalla pietà sapendo che avrebbe creato quella pietà michelangelo disse non v'è alcun concetto nell'artista che la materia non circoscrive col suo soverchio cioè la materia anche nella sua forma primitiva ha già in sé l'opera d'arte e allo stesso modo l'artista va togliendo va riducendo tutta quella scorza che imprigiona l'opera d'arte e alla fine l'opera d'arte viene fuori dal cubo viene fuori dall'oggetto che prima era completamente di forma diversa e quindi anche in noi anche nelle nostre personalità abbiamo già un'opera d'arte che ha solo bisogno di essere scoperta ma non ha bisogno di essere scoperta aggiungendo ha bisogno di essere scoperta togliendo